La dodicesima giornata delle Olimpiadi regala una storica finale per il sette rosa della pallanuoto. Le ragazze, allenate da Fabio Conti, hanno sconfitto in semifinale la Russia con il ponteggio di 12-9, che dimostra di non essere sproveduta e nel giro di due minuti va avanti 2-0. Le azzure non demordono e recuperano la parità grazie a una doppietta della Garibotti. Il match prosegue senza esclusione di colpi. Le russe mettono sotto pressione le azzure di Conti, che con capabilità chiudono la prima parte di gara avanti 6-4. Poi, grazie a Garibotti e all'instancabile tanga di Mario, si arriva al massimo vantaggio, che verrà mantenuto sino al termine finale il 19 luglio con gli Stati Uniti. Mimmo Siena, Speciale News.